Seguici su foodmadeinitaly.eu Insieme a me, sul palco di Identità Golose, insieme a Sergio Capaldo, c'è anche Luca Cantù, che è lo chef della Granda. Ascolta, hai portato due piatti anche coraggiosi, tre diciamo, però la coda, perché è coraggiosa? Perché nessuno la fa? Infatti, nessuno la faceva, ma la mia sfida è stata disossarla intera, che è una cosa molto difficile, quindi si va solo a tanta manualità. Non ci sono fronzoli di cottura a basse temperatura, sperificazioni, ma una cottura semplicissima dopo aver fatto questo lavoro molto molto complicato. Grazie, Luca. Prego. La forza della libertà è uscire dagli schemi. Quando utilizzo le frattaglie, in genere. È un tema difficile da spiegare, soprattutto in termini positivi. Io dico che veramente il sapere è libertà. Quando faccio bene il mio mestiere. La nostra libertà è quella di percorrere una strada ben solida. La cucina, la interpreto come piace a me. E essere emancipati dal denaro. E la sicurezza. Grazie, ciao. 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 Ciao.